La proprietà è che è vincolato dalla legge 1089 del 1939, ossia a un vincolo specifico come bene di importanza culturale. Poi abbiamo l'asilo laddove ci sono degli affreschi alla pari di quelli dell'Aula Consigliare e gli affreschi dell'Aula Consigliare. Questi tre beni sono stati inseriti in un progetto che è stato portato nella misura 1.12 alla Regione Campania. Purtroppo nell'ambito della grado d'oro non siamo stati inseriti, però ormai abbiamo la progettazione, abbiamo le schede, abbiamo tutto. Eventualmente dovesse aprirsi la possibilità di ottenere un finanziamento, il nostro interesse è quello di ristrutturare l'Aula Consigliare. Riproverete adesso con la nuova amministrazione? Certamente sì, abbiamo troppo credito nei confronti della Regione Campania, abbiamo troppo credito nei confronti di tutti gli altri paesi della Regione Campania rispetto ai mancati finanziamenti per il Comune di Vitri. è la programmazione di eventi estivi. Quindi credo che la Coppa Italia in carrozzina è in duplice veste, quella di abbattere i pregiudizi e quindi quelle barriere mentali che chi è diversamente abile è sempre assistito, invece in questo momento è protagonista di una gara molto competitiva. e poi allo stesso tempo quello di stravolgere quella che è la quotidianità in un territorio dove è prettamente legato al mare.